Buona serata a tutti, anche se per quando verrà reso pubblico questo video è giusto dire anche buongiorno a tutti cari amici fan. Sto pre-registrando questo video nella sera di martedì 4 febbraio, ci tengo molto a farlo già da stasera per poi mandarlo in onda domani. Allora parliamo un po' di numeri di gennaio che hanno caratterizzato la WWE, per esempio Raw nei suoi shows settimanali, nelle sue top 10 ha fatto un totale di 9 milioni, NXT circa 2 milioni e 500 mila, SmackDown 9 milioni. Per i pre-show e per view NXT The Cover Black Bull 2 300 mila click, per la Royal Rumble 4 milioni e 600 mila click, totale pre-show 4 milioni e 900 mila, Totale al netto negli show settimanali 20 milioni e 500 mila con una media di 1 milione 576 mila appuntata, invece totale al netto per i pre-per-view una media di 2 milioni e 450 mila. Grazie a tutti, anche oggi mercoledì 5 febbraio arriveranno tanti e tanti video, grazie alla prossima.